Musica Come comincia il tuo rapporto con la giostra del Saracino? Perché proprio Porta del Foro? Perché è da 4 anni che portiamo, io e mio padre, avendo un'azienda agricola nonché allevamento, si chiama La Valle, portiamo i cavalli per Porta del Foro, per la sfilata dei quartieri nella città di Arezzo, per cui da lì è iniziato il rapporto con loro e da lì è iniziata la voglia di provare a sperimentare questa bellissima giostra medievale che è la giostra del Saracino. Come hai cominciato a tirare? Ho cominciato quest'anno, non ho mai tenuto una lancia in mano in vita mia, non ho mai fatto giostre medievale di qualunque nepali, di nessun genere e tipo. Sono venuta qua casualmente perché appunto mi hanno dato la possibilità di venire a provare, ho preso una lancia per la prima volta, prima di Ferragosto, la settimana di Ferragosto e ho fatto 4 tiri in tutta la mia vita, quindi 4 carriere con 4 colpi vincenti praticamente, perché concentrandomi sul bersaglio ho centrato 2-4 e 2-5, cosa un po' strana perché ci sono tante persone che provano per vari anni e non riescono a far centro, quindi questo è stato l'inizio. Senti, Toscana, terra di Campanili, come si trova una fiorentina in terra d'Arezzo, visto che tra Aretini e Fiorentini, soprattutto in epoca medievale, non è che scorreva molto sangue. Ghibellini c'è sempre stata una bella guerriglia, però io nella mia famiglia ho delle origini Aretine, ho una nonna paterna Aretina e le altre nonne sono perugini, quindi c'è un po' un misto della faccenda e mi trovo benissimo. E con gli altri fantini, gli altri giostratori qui al campo prova, gli altri giostratori di Porta del Foro, come ti trovi? Bene, abbiamo avuto poco tempo a disposizione per conoscerci a livello di cavalieri, perché ci sono state poi giornate di prova, quindi ho con tutto il piacere e tutto il tempo da ora in poi per conoscerli meglio. Comunque mi hanno accettato molto bene, sono molto contenti, compreso l'allenatore, il capitano e mi danno dei consigli per ovviamente affrontare la storia. Senti, tutta questa attenzione mediatica, questa mattina anche una notizia sul sito del Corriere della Sera, ti spaventa, ti fa piacere? No, allora mi fa molto piacere, mi hanno detto ora e sono uscita anche in Inghilterra con un altro tipo di giornale. Mi fa piacere, molto piacere, però la cosa che vorrei ora è concentrarmi su questa grande possibilità che mi hanno dato e per ora non ho avuto abbastanza possibilità secondo me di concentrarmi, quindi ecco, sono contenta di parlarne con tutti, però vorrei che capissero, insomma, che le persone capissero che mi ci vuole tanta concentrazione per fare uno sport o comunque questa revocazione che non è semplice. Daniele, a giugno non è andata poi così bene, comunque grande voglia di riscatto per il primo settembre. Beh sì, quella c'è sempre, ogni edizione c'è voglia comunque di vincere, di riscattarsi, speriamo che vada meglio adesso, insomma. Senti, è cambiata la coppia, come ti trovi con Stefano? Ma senti, Stefano è una persona che è stata due anni fuori dal mondo della giostra e adesso ha tanta voglia di riscatto, quindi spero che, insomma, questa sia una motivazione sia per lui che per me per poter far bene. È arrivato anche un nuovo preparatore, comunque conosciuto, Luca Veneri, si vedono già i miglioramenti, si vede la mano di Luca Veneri in queste prove? Sì, sicuramente Luca ha portato tanta esperienza perché lui non è un veterano solamente nel mondo della giostra ma in tante competizioni, quindi quel pizzico di malizia che può servire nei momenti in cui noi siamo impegnati direttamente nella competizione o qui al campo prova, quel consiglio in più, credo che sia la persona più giusta in questo ruolo. Senti, che effetto ti fa a vedere Luca come allenatore quando te lo sei visto per tante giostre e anche avversario? Sì, in effetti questo è un effetto strano perché io più che altro il ricordo di Luca ce l'ho più come compagno perché ci ho giostrato insieme che come avversario. Come avversario mi ricordo che lui, io l'associo più che a Santo Spirito a Porta del Foro perché ha fatto tanto bene lì, perché comunque era il momento in cui faceva i quattro uno dietro l'altro quando non era sempre cosa così scontata e ho dei bei ricordi lì. Ora come allenatore è un'esperienza nuova, però ti ripeto l'esperienza ce l'ha e credo anche tanta voglia perché comunque è rimasto fuori anche lui per un po' di tempo dal mondo della giostra, quindi è una buona occasione. Senti, la vittoria non arriva da 11 giostre, comunque anche oggi al campo prova c'è grande fermento, grande frequentazione, comunque sintomo che c'è fiducia nella vostra coppia e comunque non è mai sopito l'entusiasmo dei quartieristi della Chimera. Diciamo che c'è anche parecchio caldo. Sì, la voglia, il popolo giallo cremesis ce l'ha già da diverse edizioni e ogni volta la cosa che mi stupisce è che non è facile resettare una sconfitta e ripartire con tanto entusiasmo. Loro invece questo ci riescono, non è da tutti i quartieri. Senti, un'ultima domanda, spesso negli ultimi tempi la fortuna ha baciato soltanto un quartiere, sarebbe l'ora anche che un po' questa fortuna si distribuisse, no? Sì, Pradenza è stato baciato solo un quartiere e ora speriamo di fare una bella limonata, anche noi con la Dea Bendata. Gianni Cantaloni, come al solito nelle vesti di padre putativo appunto del quartiere, come ti senti in queste vesti? Stavo guardando, quando intervistavi questi ragazzi in mezzo al campo, la struttura piena di cavalli, di vanne, è la realizzazione di un sogno, il sogno di avere un campo prova come hanno gli altri perché sinceramente avevano questo vantaggio rispetto a noi. Un campo prova dove vengono tutti, i giovani, ho visto oggi addirittura Paolo Parigi, il più giovane di tutti. Il ragazzo, sì, sì, questo è un motivo di grande soddisfazione per il Rettore e in primis per il Consiglio. Ne parlavamo con Daniele Gori poco fa, nonostante i risultati non arrivino, il campo prova è pieno non soltanto di fantini, giostratori che provano, ma anche di quartieristi interessati allo sviluppo delle prove, ma soprattutto interessati a far sentire il loro calore ai giostratori a qualche giorno dalla giostra. C'è un'aria nuova nel quartiere e credo che il realismo del Rettore sia stato l'elemento scatenante di questo nuovo entusiasmo, io oserei dire anche entusiasmo che si è creato. Ha aggredito in maniera drastica il lato economico, sta rimettendo a posto i conti e credo che sia una base fondamentale sulla cui puoi costruire un quartiere sano. I giovani so che ieri sera hanno accolto i fantini alla loro scena, la famosa scena a rovescio, come fanno i ragazzi, con grande entusiasmo. Noi abbiamo bisogno di una cosa sola che non nomino, anche se è l'inquadratura qui a mezzo busto, però io non nomino e credo che sarebbe l'elemento che veramente rilancierebbe in maniera definitiva il quartiere. Vedo anche un bel affiatamento tra di voi, vi frequentate anche al di fuori delle vicende giostresche, no? Bravo, 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 bravo. Questa è una cosa che hai notato, anche se Arezzo si fa la svetta, perché la nostra è una realtà ancora meno male, super paesana, però c'è questa amicizia tra noi, vera, profonda e credo che sia il collante giusto per riportare tutti nella casa di comune perché il quartiere deve essere la casa aperta di tutti, anche quelli che non hanno, che ti posso dire, simpatia per me, che c'entra, vengono, stanno magari a sedere in un altro tavolo, però il quartiere deve essere l'elemento aggregante. È tornato Luca Veneri il ritorno del figlio al prodigo? Il figlio, no, per me ci sarebbe sempre stato. È stato un grande ritorno, bisogna ringraziare in maniera particolare il rettore per certi aspetti, però è stato un grande acquisto, segue poi in maniera incommiabile tutti, vedo che la stessa dedizione, la stessa preoccupazione ce l'ha per l'esordiente come per il titolare e anche questo guarda che è una cosa molto, molto, molto importante. Il futuro sono i giovani, avete visto che ce ne sono anche di promettenti e credo che ci sarà la prova generale di qualche elemento sul quale poter cominciare a ragionare in maniera seria. Partiamo innanzitutto da quello che è successo in queste settimane estive, l'assemblea partecipata in cui avete preso delle decisioni anche importanti a livello economico-finanziario per il quartiere, no? L'assemblea è stata partecipata e abbiamo preso delle decisioni che sono quelle che noi siamo entrati l'8 di maggio e nel bilancio preventivo del 2013, dall'8 di maggio al 31 di dicembre del 2013, ci sarà il pareggio di 42 mila euro che erano invece di disavanzo. E poi anche decisioni a livello tecnico perché innanzitutto è tornato Luca Veneri. Decisioni a livello tecnico prese subito dopo la giostra con aver preso Luca Veneri che ci porterà tutti questi ragazzi giovani al meglio. Abbiamo fatto il contratto ad altri 4 ragazzi proprio ieri sera, l'altra sera, per cui diciamo che la famiglia sta crescendo, abbiamo 7-8 ragazzi su cui puntare e speriamo che piano piano, ripeto, siamo partiti ora, per cui questo campo prova deve dare i suoi frutti e noi speriamo di averli al più presto tutto qua. Ecco, è tornato Luca Veneri, è tornato anche Stefano Mamuccini. È tornato Luca Veneri, è tornato anche Stefano Mamuccini. Stefano Mamuccini con me non aveva mai smesso di parlare e quando è venuto il momento suo io gli ho detto, guarda Stefano, c'è un treno che sta passando, se ti va. Lui ha accettato immediatamente, tra l'altro ha accettato come tutti sanno, a venire a tirare a costo zero, per cui questo fa parte anche del suo carattere che vuol dare una mano a questo partiere. Ecco, torniamo appunto a parlare del campo prova perché è uno dei tasselli importantissimi per il quartiere Giallo Cremisi, visto che anche quest'oggi è pieno sia di persone che sono accanto ai giostratori per far sentire il proprio calore che appunto di ragazzi che stanno provando, sia per il primo settembre ma anche, come dicevi poco fa, in previsione futura. Diceva Gianni Cantaloni, che è più anziano di me in questo caso, che non vede l'ora tutti i giorni di venire al campo prova perché c'è un sacco di ragazzi, perché c'è un sacco di cavalli, perché c'è un sacco di gente che frequenta questo campo prova. Insieme al Consiglio abbiamo deciso che nel prossimo anno due soldi che avremo li investiremo nel campo prova, questo è poco mai sicuro, per cui piano piano metteremo in sicurezza alcuni box, eccetera, eccetera e per vedere di far vivere questo campo prova tutto l'anno. E per il primo settembre? Per il primo settembre andiamo in piazza per vincere questa Benedetta Giostra che ci manca dal 2007 consapevoli di avere una coppia che è uno più anziano come personalità, come tante cose. L'altro che ha fatto solo delle prove, delle provacce, diciamo, non è così, però noi crediamo fortemente in questa coppia e siamo convinti di poter fare il nostro miglior risultato. Stefano, il ritorno a Porta del Foro dopo due anni, come nasce questo ritorno a Porta del Foro? Ma è un ritorno, diciamo, felice perché Porta del Foro è venuto a ricercarmi e io ho risposto con un sì. Ecco, perché ti sei fatto trovare pronto visto che non hai mai smesso di allenarti? No, 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 non ho mai mollato e quindi anche loro hanno visto questa cosa e mi hanno subito ritirato dentro, diciamo. Ecco, la coppia con Daniele Gori te lo sei trovato tante volte come avversario? Che sensazione, che impressioni hai? Trovatelo invece come compagno? No, come avversario Daniele non l'ho mai avuto io, perché lui già era un titolare e io una riserva. Però con Daniele ci siamo trovati diverse volte in altri tipi di gare, quintane o qualcosa del genere, ma comunque sì, c'è sempre stata un'amicizia, siamo a retini tutti e due, quindi non c'è mai stata rivalità vera tra di noi. Ecco, per il primo settembre comunque grande tranquillità e grande fiducia nei tuoi mezzi e nei mezzi del quartiere. Sì, 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 sì. Io sto lavorando bene, i cavalli sono in forma e Daniele è uguale e il quartiere ci dà l'appoggio che noi abbiamo bisogno, quindi più sereni di così non si può stare. La speranza è quella di emulare le gesta poi dei ragazzi terribili di Porta Santo Spirito che i promossi sul campo titolari poi stanno facendo sfascelli? Si spera, si spera su questo, però non sarà facile, però noi ce la mettiamo tutta. La preparazione è magari anche un briciolo di fortuna come hanno avuto anche altri. Ci vuole, la fortuna ci vuole, però è anche il lavoro che ti porta poi a avere un pizzico più di fortuna. Allora Dario, anche con gli altri si sottolineava l'entusiasmo che si sente qui al campo prova, nonostante i risultati non arrivino e questo è ancora più encomiabile sia per i giostratori che per i quartieristi di Porta del Foro. Io non posso chiedere di più perché effettivamente c'è un entusiasmo che da tanto non si respirava. I ragazzi hanno fatto gruppo e questa è la cosa più importante. Il gruppo solitamente è indice di buone cose, quindi sono amalgamati bene, era importantissimo che questo avvenisse, è avvenuto, quindi va bene. Adesso c'è da arrivare a domenica. C'è stato un cambiamento importante anche nella coppia dei giostratori, però mi sembra che il gruppo abbia assorbito bene questo cambiamento. Sì, Stefano è un ragazzo che noi conosciamo da tanto tempo, è stato con noi, è un ragazzo di animo, di spirito, di coraggio, è un ragazzo che qualsiasi cosa tu gli chiedi a lui testa bassa la fa, pertanto non poteva essere altrimenti. Poi con Luca c'è già un lavoro da tanto tempo, sia con me che con Stefano per l'appunto che la new entry, quindi questo ero quasi sicuro che fosse un successo. Lo è stato e adesso va confermato domenica che è la giornata più importante per noi. Ecco, perché proprio Stefano Mammuccini? Stefano Mammuccini perché è ovviamente una nostra vecchia conoscenza, come ti ho detto prima. Conosciamo la qualità di Stefano, la qualità, e non parlo soltanto di qualità a livello di persona, ma anche la qualità a livello di cavaliere. ha vinto con noi delle provacce, ha dimostrato che è capace di fare cinque e quindi abbiamo detto perché no. Tutto qua. Senti, la cosa riguardante la giostratrice? Il gruppo è stato molto probabilmente più tranquillo proprio per quello che avendo una donna tutti si sono un po' tranquillizzati. No, realmente è stata una cosa che è successa in un brevissimo lasso di tempo. Credo che sia una cosa che faccia bene alla giostra, credo che sia una cosa nuova. Le cose nuove portano sempre comunque chiacchiere e questo fa parte del gioco. Però, insomma, mi risulta che le donne nel Medioevo c'erano. Magari forse non c'erano i vigili urbani nel Medioevo, ma le donne sì. Quindi è più anomala, magari non è tanto più anomala di un vigilo urbano che vediamo in piazza. E soprattutto è dimostrato di essere una buona mazzone, di cavalcare molto molto bene, di rimanere in sella bene, di prendere anche il cartellone e il punto molto bene. Pertanto, perché no? Ecco, anche un'attenzione mediatica nei confronti del quartiere che non fa certo male, no? No, l'attenzione mediatica fa assolutamente bene. È chiaro che quando un quartiere riscuote un'attenzione mediatica, poi di rimbalzo lo riscuote la giostra del Saracino. Ho fatto interviste con un sacco di giornali, tipo il Tirreno, anche quindi di oltre la nostra città. Pertanto vuol dire che la cosa ha riscosso successo e questo, quando si parla, va sempre bene. E a me ha fatto estremamente piacere. Si avvicina il primo settembre, qui si respira grande tranquillità, la porterete fino al primo settembre, no? Questo stato d'animo. Io mi auguro di portarlo fino al 2, al 3, al 7, al 10 settembre. Comunque sì, continueremo a lavorare come stiamo facendo adesso, non c'è da cambiare niente. Quando le cose vanno bene o quantomeno vanno e girano, deve rimanere su questa linea e portarla fino in fondo. Allora, Luca, ritorno alle origini, ritorno a Porta del Foro. Ma sì, è stata una bella sorpresa, insomma, quando mi hanno chiamato mi ha fatto piacere che il quartiere dove abbiamo vinto insieme sente lacce d'oro, abbiano pensato a me per questo ruolo importante. Ho trovato un ambiente che è carico, è come una pentola che bolle, che ha voglia di fare, ha voglia di costruire e di non rimanere indietro a nessuno. Ho fatto la stessa domanda a Daniele, quella che ti sto per fare, ovvero, che sensazione provi ad allenare un giostratore che ti sei trovato prima come avversario, e poi anche come compagno. Ma sai, avendolo avuto anche più che altro come compagno, già lo conosco, quindi abbiamo già collaborato un po' insieme, ci scambiavamo delle opinioni già anche allora insieme a Santo Spirito, quindi diciamo che il lavoro o comunque la complicità per poter arrivare al risultato è partita da subito. Ecco, come nasce il ritorno a Porta del Foro? Nasce da una difficoltà che negli ultimi anni questo quartiere si è ritrovato, purtroppo per loro, a vivere un po' da comparse in piazza grande. Il quartiere se ne è reso conto e tra giugno e settembre ha voluto fare delle modifiche e avere qualcosa che reputano in più e che reputano che magari possa dargli un aiuto per poter valorizzare la coppia già esistente di ragazzi di esperienza, che sono Daniele e poi anche Stefano, si è un debuttante però ha già fatto delle esperienze importanti anche in altri campi e di valorizzare soprattutto i giovani, i giovani ce ne sono veramente tanti di cui 4-5 già con un bel talento, con una voglia di fare, con dei cavalli adatti. A proposito di cavalli, hai lanciato tu Machine Gun che l'hai portata anche in prova a Siena, qualche rimpianto magari di non averlo portato a Porta del Foro e lasciato invece a Santo Spirito dove sta facendo le fortune della coppia Scortecci-Cicerchia? No, no, io sono contentissimo della strada che ha preso Machine Gun e sono orgoglioso del fatto che abbia vinto già tre lance d'oro quindi vuol dire che insomma il lavoro che avevo fatto sul cavallo ero al lavoro buono e poi dopo c'è stato il lavoro del quartiere, di Martino, di Manuele Formelli, di Gian Maria che lo monta che è stato sicuramente la ciliegina sulla torta per ottimizzare le qualità del cavallo. Quest'anno noi a settembre portiamo un altro cavallo che ha fatto la tratta con me a Siena che è Pacifica, è una cavallina giovane che ha comprato poi Luca Pellegrini che è una riserva qua di Porta del Foro e proviamo a intraprendere un po' quella strada là, sono dei cavalli alla fine che anche se sono stati a Siena però sono dei cavalli con delle grosse qualità hanno cervello, sono cavalli freddi, hanno già visto tanta gente quindi sono pronti per vedere, per trovarsi in un contesto come Piazza Grande. Senti sei ancora giovane, non è che vedendo questi ragazzi che si allenano e tirano ti viene la voglia anche a te di tirare e magari in futuro ti rivedremo anche come giostratore? Ma quello non lo precludo, però per adesso va bene così insomma, mi piace il mio ruolo e mi sto divertendo tanto insomma, mi piace dare una mano a tutti, far crescere qualcuno e spero insomma che qualcuno possa togliersi tante soddisfazioni. Grazie 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 Grazie